Le motivazioni che ci hanno spinto a collaborare con Stefano Boer Interiors nascono da un'analisi delle loro capacità creative. A noi piace lavorare con aziende che fanno ricerca, che quindi non lavorano solo sul loro catalogo, ma sperimentano, come in questo caso, anche materiali innovativi. Fa parte di un'attenzione alla ricerca che ci piace e che condividiamo. È fondamentale in questo tipo di esperienze una forte sinergia che si deve creare tra lo studio di progettazione, in questo caso, e l'azienda stessa. Questo deve partire ovviamente da una forte volontà di fare ricerca sui materiali, quindi prendere coscienza di quelle che sono le tecniche e le tecnologie a disposizione per riuscire quindi a trovare delle anche alternative all'utilizzo di questi prodotti. Fin dai primi concept è risultato necessario lavorare sulle tematiche di ecologia e di sostenibilità ambientale applicate a tutte le fasi del progetto. Questo approccio alla sostenibilità ambientale viene declinato in maniera diversa in ogni singolo prodotto. Con Stefano Boeri Interiors abbiamo sviluppato una nuova ricetta per l'engineered stone, cercando di utilizzare resine con biocomponenti, inerti con materiali di riciclo, rendendo la lastra completamente silica free. Sia nel caso del tavolo, sia nel caso della boiserie, abbiamo immaginato una modularità, cioè dei sistemi che abbiano dimensioni differenti, adattabili a spazi diversi. Questo è un po' il nostro modo di lavorare, anche, come in questo caso, utilizzando materiali importanti come il marmo o il quarzo. Sia il progetto del tavolo, ma come anche il progetto della boiserie parete, ci ha permesso di mettere in discussione sistemi e tecniche conosciute per cercare di creare nuove opportunità e nuovi modi di utilizzare questo materiale. L'approccio al tavolo cerca di utilizzare esclusivamente materiali del mondo minerale, che abbiano una vita a ciclo chiuso, quindi che siano completamente reciclabili e che rientrino nel ciclo produttivo infinite volte. Per quanto riguarda il sistema boiserie, abbiamo cercato un approccio diverso al sistema di mortaggio, creando un prodotto che non necessiti di colle e collanti a favore degli alimenti ad incastro, creando così un prodotto che sia facilmente montabile e smontabile e reciclabile singolarmente. La volontà della nostra azienda è che queste buone pratiche diventino parte integrante del nostro futuro processo di produzione. L'affinità di Pensieri Vedute con Stefano Boeri Interiors ha fatto in modo che la collaborazione sfoggiasse anche in un nuovo progetto, ovvero il nostro showroom di Milano. Lo showroom di Santa Trecca è un showroom pensato soprattutto su un criterio di grande flessibilità, quindi accompagna la presenza coerente del marmo e del quarzo su piani diversi, su due piani, al fatto che sono spazi immaginati per essere adattabili a usi diversi nel corso del tempo. Questo pezzo di Milano ospita diversi spazi espositivi che lavorano sulle pietre e sui materiali naturali. In un pezzo di città, che se guardiamo lo spazio che c'è tra il Palazzo di Giustizia, la Cagranda e il Duomo, sono tre dei grandi monumenti di una Milano di pietra. Lo showroom di Milano, di Marmo Arredo, ma anche lo stand progettato che sarà ospitato all'interno di S-Project, in Fiera Milano a Rho, nasce proprio dall'idea di usare e trasformare la materia e i prodotti proprio per creare uno spazio che lavora sul vuoto, cioè uno spazio capace di accogliere e trasformarsi in base alle esigenze e quindi a creare nuove opportunità di presentare, raccontare, mettere in scena materiali, prodotti e finiture. Grazie a tutti! Grazie a tutti!